L'incidente questa sera, domenica 29 luglio, poco dopo le 19.30, è in strada al Tessano di fronte all'area 12 a Torino. Un Opel Astra Station Wagon, con la bordo una famiglia, pare che, nel tentativo di entrare nel parcheggio del centro commerciale, abbia svoltato tagliando la strada ad una moto aprilia, guidata da un quarantenne che non è riuscito a evitare l'impatto. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto e ha compiuto un volo di circa 10-15 metri, oltrepassando il punto d'impatto. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Verde, giunta prontamente sul posto e portato all'ospedale Maria Vittoria in gravi condizioni. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono avvali della Polizia Municipale.